la domanda che si stanno facendo tutti è... può Alistar farsi il solo Baron? Allora... le rune sono ancora queste, non proprio... un attimo, un attimo, un attimo... Allora... 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 Così, va bene... Allora... Allora... Parliamone... Può Alistar farsi il solo Baron? Allora... Allora... Ripeto, parliamone... Mmm... Sì... Alistar può farsi il solo Baron... Eh... Ne sono abbastanza sicuro... Ho come l'impressione che però con la build classica, ovvero la build... Sto registrando... La build sto registrando? Sto registrando... Ovvero con la build quella da support non ce la posso fare... Ma andiamo subito a testare... Allora... Portiamoci a livello 13... Siamo a livello 13... Potenziamo l'ulti al massimo... La Q al massimo... E così... Allora... Andiamoci un po' di oro... Allora... Eh... Tu puoi staccarmi l'oggetto da support? Direi di sì... No... Non mi può staccare l'oggetto da support... Allora... Facciamo finta che non ce l'abbia... Check... Va bene... Prendiamo questo... Andiamo tank... Facciamo così... Facciamo così... Facciamo così... Facciamo così... Così... E... E uno slot lo dovrei lasciare vuoto... Perché ci dovrebbe essere l'oggetto da support... Facciamo così, dai... Allora... Una build classica di un Alistar... E... Può funzionare... Contro un Baron... Sì... Ovvio... Ovvio... E... Genera Drago... Genera Baron... Ehm... Oddio... Sì... 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 Ovviamente... 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 Guarda adesso come lo... Perché tu non ti sei spostato? Vai... Guarda come lo spacco... Boom... 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 Testate... Allora... Danni non ne subisco io... Eh... Quindi attenzione... Attenzione... Sono un support full build... Lei cosa vuole da me? Cosa vuole da me? Riduco anche i danni in entrata... Boom... Ho già finito il mana... Allora... Lui danni non me ne fa... È evidente... È evidente... Me ne fa pochissimi... Io però gliene faccio ancora meno... E... E... Quando finirò il mana... Gliene farò ancora meno del meno... Proprio... Eh... Ok... No... 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 Però Alistar scala bene con l'AP... Quindi magari... Full... Full support no... Ma full AP... Oh... Guarda... Me la presenta subito la build full AP... Vediamo... AP... AP... Cosa potrebbe piacermi? Tac... Un po' di velocità d'attacco... Una Lich Bane... Magari il biscottino lo vendiamo... E questo che ci rende ancora un po' più tank... Ah... I danni ora... I danni ora saranno entusiasmanti... Ci riproviamo... Ci riproviamo... Andiamo... Boom... 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 Guarda i danni... Guarda i danni dell'Alistar full AP... Guarda i danni dell'Alistar full AP... Gioisci... Gioisci... Allora... Sì... Osi di nuovo farmi volare... Mi incazza eh... Ho finito il mana tre anni prima... Perché abbiamo un po' di cooldown... Perché sì... Boom... Allora... 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 Posso dire... Posso dire... Meglio di prima... Ho finito il mana... Ho finito la festa... Mi sa... Non uccidermi... Bravo... Grazie... Generoso... Va bene... Va bene... Va bene... E allora voi lo sapete... Già lo sapete cosa sta per succedere... Già lo sapete... Ecco è la build... Crackenslayer... Già lo sapete... Lo sapevate già dall'inizio in verità... Facevate finta di non saperlo... Ma lo sapevate già dall'inizio... Aia... Mi sono fatto male... Allora... Attack speed... Dentro... Tu... Dentro... Tu... Ehm... Ma un po' di AP... No... 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 Danni... Danni... Danni golosi... Cosa prendiamo... Prendiamo uno di questi... E prendiamo anche uno di questi... Dai... Già lo sapete... Cosa succede ora... Ciao Baron... Boom... 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 A pugni... Senza schiacciare i tasti... Mi sa che... Ma già lo sapevamo che sarebbe andata così... Già lo sapevamo che sarebbe andata così... Penso che questa build possa far fare il solo Baron... Letteralmente a chi... Non ho le mani sulla tastiera eh... Non sto premendo abilità... Lo sto lasciando fare... Cioè questa è la build... Con il quale davvero tutti possono farsi il solo Baron... Sì 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 sì... Vieni vieni... Ok... Ok... Grazie... Molto piacevole... Molto piacevole... Disquisizione interessante... Beh... Che dire... Cipollini e cipolline... Ehm... Vinciamo il game... Non c'è molto da aggiungere... Cioè nel senso... Con questa build... Dov'è la vittoria del game? Non posso più vincere il game... Eccolo qua... Easy win... Cioè... È chiaro che con questa build... Regà... L'abbiamo capito... L'abbiamo capito... Questa è la build giusta per vincere contro Baron in 1v1... Cioè... Palese... Palese... Ci sono pochi cambiamenti tra un champ e l'altro ma... 1, 2, 3... E il Baron è vostro... 1, 2, 3, 4... E poi... Tutto il resto è solo contorno... Tutto il resto è solo contorno... Detto questo... Vi saluto e vi ringrazio... Forza Roma e Bassolazio... Noi ci rivediamo in live... Quando volete... Ehm... Riot... Ti voglio bene... La gente non ti capisce... Ma io ti capisco... Ciao ragazzi... Al prossimo video...